ciao come va spero bene per tutti niente sono a casa in ferie come al solito si fanno i lavoretti per sistemare le cose che si guastano e niente siccome stavo facendo appunto un po di manutenzione a questi ventilatori ho pensato di fare un video così giusto per tornare un attimo ecco niente allora come è scritto qua cosa succede che quando si cerca di accendere il ventilatore le pale non girano oppure girano tutte sia scegliendo le varie velocità girano tutte la stessa velocità molto bassa e di solito si sente il ronzio del motore che sforza perché cerca di far girare le pale ma non ci riesce ecco vediamo un attimo io cosa ho fatto quindi la prima cosa da fare è smontare il paraelica di solito c'è ci sono delle alettine sul bordo e una vitina tante volte è in fondo oppure in alto che tiene fermo le due parti del paraelica ecco questa va tolta oddio se il ventilatore è stato comprato di recente di solito li vendono smontati e uno li monta quindi diciamo che la fase di smontaggio non dovrebbe essere così complicata ecco si deve togliere una volta tolto il paraelica si deve togliere l'elica ecco questa foto vediamo le alette che appunto fermano le due parti del paraelica qui in mezzo vediamo quella specie di manopola che tiene ferma invece l'elica teniamo conto che per smontarla questa manopola gira al contrario del senso delle normali delle normali vite viti quindi va girata verso per smontarla va girata verso destra invece che a sinistra come di solito in questa foto vediamo il retro dell'elica questo è l'albero motore si vede quel piccolo pezzo metallico di traverso che è quello che poi trasmette il movimento all'elica in fase di rimontaggio va fatto combaciare con quelle tacche che si possono vedere sul retro dell'elica quindi tolto tolta l'elica ci si presenta praticamente questa situazione io qui ho spruzzato del lubrificante vd 40 più che lubrificante non bloccate dove c'è il cuscinetto dell'albero motore già questo ha portato beneficio infatti facendo girare a mano l'albero motore si era praticamente liberato è possibile però stando molto attenti in questa fase visto che non si è ancora smontata la parte dietro far girare l'albero motore a corrente tenendo presente però che quel pezzettino di metallo può essere pericoloso toccarlo mentre gira quindi una spruzzata lì dvd 40 e dopodiché bisogna passare a questo punto alla parte posteriore qui dobbiamo smontare il carter che copre il motore e poi togliere il pomello che serve per far abilitare o disabilitare come si chiama l'oscillazione del ventilatore per toglierlo ecco ci vuole un paio di cacciaviti o qualcosa del genere in questo modello per fare in modo da liberare quei piccoli gancetti quindi si spostano un po con le alette attenzione non romperle perché sono poi il carterino dietro non sta più attaccato ecco in altri modelli invece c'è una vite centrale nella parte posteriore del carter motore allora andiamo vediamo se ce l'ho no qui va bene vediamo il questo modello quando si apre quindi come si può vedere i gancetti escono e le lamelle che poi li bloccano fortunatamente questa volta si sono salvate ecco questo qui è uno invece dei modelli che hanno la vite dietro nel centro del carter del motore quindi si svita quella e viene via la copertura del motore senza poi troppi problemi questo invece il pomello che regola l'oscillazione quindi la attiva la disattiva in alcuni modelli appunto si svita la vite viene via in altri modelli è a pressione quindi basta tirare con un po di forza e si può levare quindi saremo in questa situazione quella è la sede del pomello dell'oscillazione e lì in basso invece si può vedere la sede della vite che tiene il carter quindi alcuni modelli sono fatti così altri invece hanno quelle lamelle che abbiamo visto prima che vanno liberate una volta tolto la copertura del motore abbiamo questa situazione in questo modello che è un modello appunto recente e piuttosto economico parliamo di roba attorno ai 30 euro quindi si può vedere questa scatola che è la scatola degli ingranaggi che fanno funzionare l'oscillazione e qui si può vedere attraverso questo foro la vite senza fine che praticamente è l'albero motore che esce sul retro questa vite senza fine fa girare l'ingranaggio e appunto fa fare l'oscillazione al ventilatore qui di fianco possiamo vedere un condensatore ecco quello lì bisogna fare un po' attenzione comunque togliendo la corrente e lasciandola staccata per un po' dovrebbe scaricarsi non dare problemi allora passiamo ecco qui possiamo vedere questo piccolo tallone che anche lui ha un buco quindi questo foro qua di sopra che vediamo e quell'altro adesso magari ecco qua si vede meglio quindi io provveduto a lubrificare l'interno della scatoletta quindi senza aprirla spruzzando dentro del punto del vd 40 quindi uno sbloccante e poi mettendo dentro un po' d'olio di quello che si usa olio da macchina quello delle macchine da cucire sarebbe meglio in effetti spruzzar dentro un po' di grasso o se si ha tempo si apre questa scatoletta lo vediamo nelle immagini successive in un altro modello si mette dentro del grasso in questa scatoletta di modo che dura di più la lubrificazione allora passiamo un po' oltre quindi io appunto ho spruzzato dentro lo spray poi a mano ho fatto girare un po' l'albero motore in modo che il vd 40 abbia potuto un po' sbloccare gli ingranaggi di plastica e poi l'ho voltato verso con l'elica verso il pavimento in modo che anche lì il vd 40 abbia potuto andare un po' anche nel cuscinetto posteriore del motore quello che permette la rotazione quindi ho spruzzato sia da questo foro sia da questo foro qua in questo piccolo tallone che si vede qua in foto allora poi per come dire le volte successive non dove sta lì a smontare tutto però qui a scelta è cioè io sono pigro e ho fatto così ho fatto un forellino qui nel centro del carter una volta che ho rimontato tutto ovviamente in questo modo praticamente se mi ricapita spruzzerò direttamente il lubrificante o il lo sbloccante attraverso il forellino che c'è in quel tallone che abbiamo visto prima quindi questo buco questo buco qua è fatto esattamente in corrispondenza di questo foro ecco quindi torniamo giù sotto ecco qua questo qui invece è un modello dove il carterino o scatola degli ingraggi non ha quei buchi che abbiamo visto prima quindi qui sempre vediamo il condensatore qua di fianco qui l'ho smontato perché questo qui bisogna per forza aprire questa scatoletta cosa c'è da dire che questa placca metallica l'ho chiamata flangia è quella dove poi viene avvitata la vita che abbiamo visto che c'era sul dietro del carter motore praticamente qui prima di smontarla bisogna fare attenzione a come posizionata la si vede che ci sono dei dentini a seconda della posizione diciamo di questi dentini la flangia si avvicina si allontana dalla parte posteriore quindi prima di svitare le tre viti semplicemente guardare la posizione in cui va rimontata per il condensatore stessa cosa che ho detto prima prima di toccarlo lasciare staccata la corrente un po quindi una volta che abbiamo praticamente tolto il coperchio della scatola ingranaggi la cosa che ci si presenta è questa come si vedono ci sono gli ingranaggi appunto come dicevo che fanno permettono l'oscillazione e sono ingrassati qui il grasso si vede forse è un po indurito quindi fa attrito più che lubrificare e l'albero del motore fa fatica fa girare poi tutto sia l'elica davanti che questa parte dietro quindi qui nient'altro che spruzzato anche lì sbloccante nella parte là dove c'è il cuscinetto un pochino qui per pulire diciamo gli ingranaggi e fluidificare un po il grasso e poi ho messo del grasso nuovo io diciamo che avevo a disposizione del grasso di vasellina non so se effettivamente molto indicato però diciamo che tra quello e la spruzzata di come si chiama di dvd 40 la cosa se si è risolta se fluidificato il grasso lo spalmato per bene lì sulla vite e sugli ingranaggi dopodiché ho provveduto sì per carità prima ho fatto fare qualche giro all'albero motore a mano giusto per insomma vedere che le cose girassero come si deve ecco poi bisogna richiudere la scatolina e riattaccare il condensatore nelle stesse condizioni che erano prima si rimonta il carter e a quel punto niente una volta rimontato il carter si può attaccare la spina a questo punto perché insomma le parti sono tutte diciamo parti elettriche sono protette sempre facendo attenzione nella parte davanti che c'è quel pignoncino attaccato all'albero motore io appunto ho acceso la massima velocità lasciato per un po poi la seconda poi la prima in modo da vedere che tutte le velocità fossero rispettate spento e riacceso in prima velocità che è la più bassa quindi quella dove il motore ha meno potenza è andato tutto a posto e sinceramente quest'anno appunto come scritto ne ho sistemati tre in questo modo probabilmente lasciandoli fermi nella stagione invernale magari il grasso si secca il lubrificante anche quello menta a polvere non lo so comunque sia già due anni che faccio per quelli che si fermano questo lavoro e le cose hanno funzionato sempre ovviamente che non si tratti di qualcosa di più grave perché se c'è il condensatore che non funziona o se è rotto qualcosa nel motore lì vabbè ci si può far poco ecco sinceramente ecco dopo di che in fase di rimontaggio come ho detto all'inizio tener conto che quel pernetto lì deve si deve finire nelle tacche sull'elica perché quello che permette appunto al motore di trasmettere il movimento all'elica si richiude il paraelica si rimette la sua vitina di sicurezza e praticamente il lavoro è finito ecco niente spero che la cosa sia stata utile un saluto a tutti e ci vediamo o ci sentiamo una delle prossime volte grazie a tutti ciao ciao